Buonasera, benvenuti al sabato Dino Dance del Ristorante del Convento, io sono Alex Angeletti, mi metto in mezzo con una retromaccia senza specchietti. Buonasera ragazzi, benvenuti. Buonasera, buonasera. Da dove arrivate? Da Trento. Anche tu? No. Tu arrivi da? Revo, Baldilon. Ma siete amici? Sì. Allora, tu ti chiami? Nicola. E tu? Gianluca. E cosa festeggiate di bello? Mi piace! La cena di classe, come si chiama qua? Insomma, cena di classe dell'anno? Dell'anno, boh, che anno era? Correva l'anno, attenzione. 2012. Ragazzi, incredibile, se danno i numeri così, va al primo bicchierino, non lo so immaginare, più tardi, al ristorante del Convento Donato del Garda. E se ne sono convinti. Certo, sempre. Determinati, giusto? Se ne siamo convinti, non si fa niente. Intanto ci stanno rubando la scena solo per invitare una fanciulla. Forse, forse si convincerà. Eccola qua. Oh, bene, è venuta. Buonasera. Lei si chiama? Vieni qua, vieni qua. Ciao, mamma. Lei è la più famosa della scuola, comunque. Chi sa per quale motivo? Sabrina, come mai? Come mai? Come mai? Come mai? Ma come mai? Come si è sentito? Come si è sentito? La conoscono tutti. La conoscono tutti. Va bene, dai. Grazie, Sabrina, per aver fatto nave scuola con questi ragazzi del Trento. Ti salutiamo. Grazie ragazzi, buona serata. Alla prossima.